Vabbè, poca roba, voi lo capite, poi questo giro parte presto e non riusciamo poi a vederlo bene in televisione, perché finisce anche questo presto, forse dovevamo approfittare del fatto che è estate e farlo un po' più tardi per permettere anche una visione migliore dal punto di vista televisivo, però oggi avete visto la seconda tappa, ha vinto ancora questo colombiano che è già arrivato, vuole praticamente fare l'end plane, vuole vincere tutto lui, però il giro è comunque una bella iniziativa, è costata sicuramente tantissimo dal punto di vista promozionale, dice qualcosa, ma magari non riesce a coprire il gap del quale abbiamo parlato prima, noi siamo senza strade, senza ferrovie, senza pubblicità promozionale al punto giusto, poi dice facciamo il giro, vabbè, ok, agli appassionati di ciclismo piace senza dubbio. Cambiamo argomento, abbiamo detto che ci sono le elezioni a Palermo, o meglio, che a livello regionale già si pensa alle elezioni, ma dobbiamo dire che il 10 di ottobre si vota anche a Vittoria, che vuol dire? Vuol dire che è finito questo lungo periodo, più lungo di quello che doveva essere, di commissariamento a Vittoria, e proprio per questo la Commissione sarà, a fine di questa settimana, venerdì, praticamente, quindi non domani, ma venerdì, ci sarà una conferenza stampa in cui la Commissione tirerà le somme di questi due anni di gestione della città di Vittoria. A sentire le voci che circolano, credo che nessuno sia stato soddisfatto di quello che ha fatto questa Commissione, addirittura ci sono stati degli scontri violenti, proprio personali, violenti sempre nella dialettica, poi con qualche querela, certamente con le mani mai, qualche scontro violento, perché che cosa è accaduto? Voi sapete che il, per esempio, l'onorevole Aiello ha più volte accusato la Commissione di non svolgere appieno il proprio compito. Ora, l'onorevole Aiello è uno dei quattro candidati. Questa immagine lo ritrae quando in un comizio è stato, posso dire, appoggiato da Claudio Fava. E questo vuol dire che c'è un movimento politico importante che segue Ciccio Aiello e comunque Fava, lo sapete, è impegnato nella lotta alla mafia, condivide probabilmente con Ciccio Aiello proprio questa lotta alla mafia, perché poi Vittoria non è la mafia, la mafia è una cosa troppo difficile per parlarne e per spiegarla, ma che se a Vittoria esista un certo tipo di ragionamento questo è innegabile. Vi faccio un esempio, domani domani alle 11.45 presso la sala delle Capriate, sempre a Vittoria, c'è una conferenza stampa indetta dal commissario. Nel corso della stessa commissione, della conferenza stampa, il commissario dispensa, presenterà le ultime novità in seno alla nuova gestione del mercato ortofrutticolo e il relativo inserimento dello stesso nella rete d'impresa Italmercati che agglomera al proprio interno i 18 mercati più rappresentativi d'Italia. Non capite cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato di Vittoria entra nel gota dei mercati, è chiaro che questi grandi mercati hanno delle regole, sono regole che devono essere rispettate a priori e che però entrando in questo grande giro c'è anche la possibilità di imporre delle regole a chi acquista, ma imporre regole giuste, non regole farlocche. Per esempio sappiamo che ci sono molti delle catene di grande distribuzione che in qualche modo costringono i produttori a pagare sulla pubblicità, a prendere prezzi più bassi, giusto, è più che giusto, capisco, ma non si può andare oltre i limiti, cioè non si può dire a un produttore di pagare una certa cifra e poi offrire il prodotto a prezzo più basso del guadagno, quindi a quel punto non ce la può fare nessuno. Quindi il fatto di essere diventati così nazionali, quindi richiede certamente trasparenza e questo speriamo che questa trasparenza riesca a portare trasparenza anche al mercato, perché il mercato essendo qualcosa da cui escono fuori decine di milioni di Euro l'anno, pensate quante centinaia di camion, di prodotti partono ogni giorno, allora se c'è la trasparenza, le regole, la normalità all'inizio c'è anche dopo e questo garantisce che non ci siano problemi appunto di inquinamenti mafiosi, mentre sappiamo che questi inquinamenti nel passato sono stati denunciati, ma non solo di gioiello, da tutti. Quindi si voterà giorno 10 e questo noi dobbiamo considerare che il 10 e l'11 quindi naturalmente, domenica e lunedì mattina, dobbiamo considerare che ci sono questi candidati, sono tanti, ci sono molti che sono impegnati, che vi devo dire, non voglio fare campagna elettorale a nessuno e quindi ognuno pensi per sé, si metta la mano sulla coscienza e vai davanti. Detto questo, chiudiamo su Vittoria, ho detto dalle due conferenze stampa, quella di domani su Italmercati, ci sarà Fabio Massimo Pallottini che è il presidente di Italmercati e poi questo che vuol dire, l'ho detto, questo vuol dire che Italmercati tiene molto da conto Vittoria, se no non ci andrebbe dietro. Che cosa succede nelle amministrazioni comunali? Spesso capita che ci sono delle difficoltà, la difficoltà di cui voglio parlare oggi è la difficoltà che sorge al comune di Ragusa. Cosa c'era oggi in consiglio comunale? Che era una prosecuzione di quello di ieri, poi questo avremo occasione di parlarne certamente con, poi venerdì con Cesare. Allora voglio vedere se riesco a leggervi esattamente cosa dice il tema. Allora, prosecuzione al 29 settembre, vediamo qua il tema, diciamo quello di cui si deve discutere, variante al piano urbanistico attuativo del PRG di contrata selvaggio approvato in delibera per l'aumento del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, passare da 28 nel limite massimo degli indici urbanistici. In pratica, avevamo accennato, c'è una ditta che ha chiesto di restare negli ambiti ma di aumentare gli appartamenti, quindi da 16 a 28, però restiamo nei limiti massimi degli indici urbanistici. Questa cosa ha già richiesto la bellezza di quattro sedute e ogni volta qualcuno se ne, diciamo, non ha voluto discutere e anche oggi è andata così, perché qualcuno ha chiesto che ci sia, che ci possa essere un rinvio perché ci sono, hanno chiesto delle carte al segretario generale e il segretario le ha date, quindi ci dobbiamo leggerci queste carte. Quindi praticamente, ora è chiaro che lì problemi politici soltanto possono esserci, perché tecnici, là è facile facile, c'è un regolamento, se il regolamento dice che si può fare, si fa, se il regolamento dice che non si può fare, non si fa, i regolamenti non si possono interpretare così, le vuole fare 28, allora vuol dire che questo regolamento è confuso. Però la situazione politica è particolarmente delicata, tanto è vero, tanto è vero che vi faccio vedere che il consigliere Jurato ieri è intervenuto e ha fatto un intervento così arzigogolato, così ammiscato, per il quale uno dice ma questo che cosa vuole dire? In pratica c'è una velata minaccia, minaccia politica che, ma ora ve lo spiego, sentitelo.